I detenuti ripareranno le strade di Roma, questo è il senso del protocollo firmato tra Autostrade per l'Italia, il Ministero della Giustizia, Roma Capitale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'accordo ha come obiettivo appunto quello di riqualificare le strade della Capitale attraverso il lavoro dei detenuti. In una prima fase saranno 15 detenuti coinvolti, selezionati tra quelli a bassa pericolosità e compene ridotte, che verranno formati in carcere presso scuole di formazione di Autostrade per l'Italia per una durata di due mesi e mezzo, al termine dei quali otterranno un attestato professionale. I loro primi interventi interesseranno le strade adecenti al penitenziario di Rebibbia, che una volta risanate diverranno i laboratori di formazione dei detenuti. Successivamente i detenuti formati saranno impiegati nell'area metropolitana della Capitale per la pulizia delle catitoie, la riparazione delle bughe a caldo e il ripasso delle strisce pedonali, in particolare delle arterie a basso scorrimento del centro storico. Autostrade per l'Italia fornirà gratuitamente la formazione trapide caposquadra, i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature e i materiali, mentre i cantieri saranno responsabilità del Campidoglio. Per il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafete questa è un'iniziativa che potrà essere replicata anche alle altre città. Deve essere replicata in tante altre città. Chiederò ai sindaci di farsi promotore di esperimenti come quello che abbiamo presentato oggi. Andrò personalmente a salutare i sindaci che si faranno promotori di questo esperimento e li ringrazierò pubblicamente perché questo è uno di quegli esempi di collaborazione tra governo e governo locale, quindi con i sindaci, che possono davvero rendere migliore la società sia in termini di utilità, perché i detenuti vanno a svolgere lavori che sono per l'utilità della società e della collettività, sia poi anche per una questione di sicurezza in questo caso, perché noi riteniamo che investendo sul lavoro come carta di reinserimento sociale per i detenuti in realtà la società poi sia più sicura, perché queste persone quando escono dal carcere, se hanno una formazione e se hanno la possibilità di reinserirsi nel tessuto sociale, chiaramente a quel punto non delinquono. Quindi è un circolo virtuoso che noi incentiveremo. Per l'amministratore delegato di Atlanti Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci l'accordo permette alla società di poter contribuire a un progetto innovativo che affronta uno dei problemi storici della capitale con un modello organizzativo socialmente utile insegnando un mestiere ai detenuti e dando così loro una chance concreta di reinserimento sociale.